Il Rettore invita il Dottor Giorgio Squinzi, Presidente di Confindustria, ad accomodarsi al podio per tenere la sua lezione magistralis dal titolo Un ecosistema europeo per il lavoro e le imprese. Buongiorno a tutti, magnifico Rettore, autorità, signore e signori, ho accettato con piacere l'invito rivoltomi dal Rettore di partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'838esimo anno accademico, un numero di per sé storico che sottolinea l'importanza della giornata odierna, che è anche occasione per illustrarvi il punto di vista di chi ha fatto impresa per tutta la vita su una questione che ritengo di centrale importanza per il nostro Paese e per le generazioni a venire, il futuro dell'Unione europea. La visione di chi ha l'onore e anche l'onere di presiedere un'associazione come Confindustria che crede fermamente nell'Unione stiano le nostre possibilità di rilancio e di recupero della crescita. A certe condizioni. La prima, se mi si passa l'espressione, è che non possiamo e non dobbiamo fare l'Europa senza gli europei. Per questo il futuro dell'Europa Unita passa anche da queste aule. Il vostro patrimonio e il contributo è essenziale per la formazione di una coscienza europea. Su questo dobbiamo riconoscere che l'Università italiana di oggi, sotto accusa per molte carenze, è un mondo aperto alle connessioni e agli scambi e le opportunità di cui possono godere gli studenti di oggi sono enormemente più grandi di quelle delle generazioni precedenti. Da qui, posso testimoniarlo, escono oggi giovani europei. La seconda questione sta sulle proprie spalle di chi per missione ha la responsabilità di educare il Paese al cambiamento, di anticiparlo e per molti aspetti fondamentali concorrere a determinarlo. Qui si deve combattere, non assecondare in alcun modo, il pericoloso e strisciante senso di rinuncia che si avverte in questo momento nel Paese. Qui, in queste aule e nei vostri laboratori, dobbiamo fabbricare la nuova fiducia, insieme. Da qui, dalla culla dei saperi tecnici e scientifici di cui abbiamo un gran bisogno, dobbiamo far transitare la prospettiva di poter dare un contributo alla ricrescita dell'Italia per i nostri ragazzi. Nulla è più umiliante che dover andare all'estero per poter lavorare e dare soddisfazione alle proprie ambizioni. Infine, qui bisogna colmare i gap di competenza che ci separano dalla media del mondo più sviluppato e ormai anche dalle università dei Paesi di nuova ricchezza, la Cina in primis. In questo competere, la nuova stagione di interventi e programmi dell'Europa, che lega fortemente i saperi alle imprese, può essere una scommessa comune per uscire dalla crisi, da cui però non siamo ancora fuori. Il mondo soffre ancora dei postumi della crisi scatenatasi nel 2007. Ricette efficace e durature non sono state ancora individuate. I governi si ingegnano a sperimentare rimedi diversi per riattivare una crescita robusta e sconfiggere il grande male del nostro tempo, la mancanza di lavoro. Negli Stati Uniti e in Giappone la risposta è stata affidata una politica monetaria ultraespansiva. A mio avviso, i rischi di ripercorrere una strada fondata sulla leva finanziaria con conseguenze globali sull'economia sono tuttora presenti. Abbiamo già pagato un conto salatissimo e una seconda volta potrebbe avere conseguenze non sanabili. Le nuove grandi economie, Cina e Russia in testa, si confrontano con una crescita in fase di rallentamento, ma soprattutto con esigenze di apertura, di libertà e di democrazia che pongono le società moderne connesse a livello globale. La libertà economica è condizione indispensabile della libertà politica, sosteneva giustamente Luigi Enaudi. In questi Paesi la crescita delle economie e dei consumi genera domanda di libertà politica e civile. Sono processi delicati, densi di incognite, in nazioni che hanno fondato il loro modello di crescita su governi centrali con fortissimi poteri di controllo e su un'apertura quasi fideistica alle regole del mercato. Altre parti del mondo, Turchia e Brasile ad esempio, affrontano insofferenze e proteste sociali crescenti, con richieste di maggiore equità nella distribuzione di una ricchezza generata con grande abbondanza negli ultimi anni. Anche in questi casi le classi dirigenti di quei Paesi sono perse impreparate ad affrontare i nuovi bisogni sociali. Il mondo arabo, balzato alla cronaca per il vento innovativo delle primavere di democrazia e delle rivoluzioni Twitter, in cui le ispirazioni a modelli di società e di consumo più occidentali erano state salutate da tutti come grande vittoria della modernità, si risveglia in una realtà oppressa da lotte tribali e regolamenti di conti interni. La guerra civile siriana e le vittime di terribili lotti fratricide hanno il segno dei gravi elementi di instabilità in quelle aree e di quanto sia stato frettoloso decretare la fine del fondamentalismo e dell'autoritarismo in società povere e in cui i diritti fondamentali dell'individuo sono quotidianamente violati, dei giovani e delle donne in particolar modo. Emergono altri campioni della crescita, come Messico, Indonesia, Nigeria e qui dovremmo valutare se saranno progressi duraturi. Interessante quanto poco studiato il fatto che l'Africa continui a crescere a tassi del 5% anno, anche se questa cifra non si traduce ancora in un miglioramento diffuso delle condizioni di vita delle popolazioni. In generale è in atto un processo di allargamento della crescita basato sulla produzione industriale che non ha precedenti nella storia umana. In questo contesto l'Europa fatica a trovare la propria via di uscita dalla crisi. Sconta un'identità debole, una perdurante crisi di autorevolezza politica, un processo poco condiviso e solidale nell'affrontare le emergenze. Da europeista convinto, confesso che molte delle promesse di crescita dell'economia in reale, in cui le nazioni dell'euro avevano confidato al sorgere della moneta unica, non si sono ancora realizzate. Con differenze tra Paese e Paese, per più di una decina d'anni abbiamo avuto spesa pubblica e consumi eccessivi finanziati a debito e capacità produttiva in eccesso. Anche in Europa abbiamo ceduto alle lusinghe dei rendimenti facili degli investimenti finanziari a scapito di quelli realmente innovativi. Non è solo colpa della Lehman Brothers, insomma. Scossa dalla recessione e dalla crisi dei debiti sovrani, l'Unione non ha avuto coraggio nel ristrutturare le proprie politiche. Il 2012 è stato l'anno nero, con la speculazione che colpiva i titoli di Stato più esposti, i bonus e i nostri BTP in primis. The European Central Bank is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Era il 26 luglio del 2012 e Mario Draghi avvertiva con la giusta durezza gli speculatori che non avrebbero avuto la meglio sull'euro. A ottobre nasce la European Stability Mechanism con 700 miliardi di dotazioni per assistere i debiti sovrani in difficoltà. Gli effetti di scelte chiare e condivise si fanno sentire e i dati sugli spread, non solo quello italiano, sono lì a testimoniarlo. L'integrazione monetaria riprende il cammino interrotto dopo il 2007 e forse il peggio potrebbe essere alle nostre spalle. Dopo la dura battaglia finanziaria, la sfida oggi è tutta politica e civile. Si voterà a maggio per il rinnovo del Parlamento europeo, una tappa di fondamentale importanza per il nostro futuro. Dobbiamo rivolgere un appello chiaro, accorato e sincero ai nostri giovani perché siano partecipi di questo momento. Già scettici e poco motivati dalla politica nazionale, si sentono ancora più distanti da quella europea, mentre si gioca il futuro dell'Unione in uno degli snodi più delicati della sua storia. Il disegno, nato a Ventotene da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, vedeva nell'Europa federata il superamento dei nazionalismi che portarono alla tragedia del secondo conflitto mondiale. Si pensò allora a uno spazio politico di pace e convivenza da edificare sulle macerie del 1945 con una moneta unica, un solo esercito, una politica estera e un modello di Stato sociale. Questa straordinaria visione ha poi trovato un'attuazione parziale, è vero, mai nata ed è tuttora viva. C'è però un crinale sottile che divide una stagione europea di completamento di quel disegno dalla sua dissoluzione definitiva. La crisi di cui abbiamo detto e troppe debolezze politiche hanno aperto il varco a nuovi nazionalismi, demogagie, populismi che vedono nell'Europa e nell'Euro il male da combattere. Ovunque prosperano forze politiche che è eufemistico definire euro scettiche. Non nascono oggi e hanno alle spalle qualche successo, come la vittoria nel referendum francese-olandese, che vide il no alla Costituzione europea, o la bocciatura irlandese al Trattato nel 2008. Predicano la fine dell'Unione, il ritorno alle valute nazionali, il recupero dell'autonomia politica interna, la rinascita delle identità nazionali. Si affermano come valori proprio quei cattivi germi che Spinelli, De Gasperi, Schumann, Adenauer, Monet, Spack e la classe politica uscita dal secondo dopoguerra combatterono per un'unione tra Stati intesa come area di pace, di democrazia, di stabilità, di diritti sociali comuni. Ma povertà crescente e disoccupazione sono il perfetto brodo di cultura dello scetticismo antieuropeo. L'incerta definizione di ciò che è l'identità europea avviata con il dibattito sulla Costituzione è una precisa responsabilità delle classi dirigenti. Lentezze, politiche maldestre, eccessi burocratici e una crescente complicazione nei regolamenti hanno fatto il resto. Siamo stati decisi e duri nell'affrontare questioni minori come le crisi di Grecia, Portogallo e Cipro, ma timidi e impacciati nel darci politiche per una crescita duratura, unico rimedio alla disoccupazione. Dobbiamo ammettere che la perdita di peso e di influenza è reale. A molti osservatori questo non sembra più il vecchio continente, patria della cultura e dei diritti, capace di coniugare benessere ed equità, ma solo un continente vecchio. Per chi come me gira per professione il mondo, il confronto con le altre macro aree del pianeta è talvolta impietoso. Se fuori respiri dinamismo, umiltà, voglia di competere, qui senti scetticismo, stanchezza e forse un po' di residuo presunzioni. Sensazioni che si materializzano nella bassa crescita e nella perdita di capacità competitiva. L'Eurobarometro 2013 segna sfiducia stabile nel futuro da parte della maggioranza delle famiglie europee, erodendo un patrimonio di sostegno all'Unione, capitalizzato in oltre mezzo secolo. Eppure l'Europa esiste e resiste, ha una valuta forte, forse un po' troppo, si è allargata ulteriormente, è patria per i giovani che viaggiano, studiano, scambiano esperienze e conoscenze come mai nel passato. È routine nella collaborazione per la ricerca e nelle comunità di conoscenze tra imprese ed università. Ha appena varato un ambizioso piano di investimenti fino al 2020, fondato su conoscenza, ambiente, ricerca e riduzione delle disparità territoriali. È leader in tecnologie e produzioni industriali di eccellenza. Ha un welfare e una sanità che il mondo ci invidia, a cominciare dagli Stati Uniti. È ancora uno spazio di pace e di stabilità, come pensato dai fondatori. A me questo sembra molto, anzi direi un grande bilancio. E quale sarebbe l'alternativa a tutto ciò? Riprendersi le monete e le sovranità interne, come chiedono i nostalgici del primato delle nazioni, di destra e di sinistra? Costi e rischi di questa prospettiva sono enormi, le incognite innumerevoli. In primo luogo, se costruire una moneta è stato lungo e complesso, spacchettarla in una trentina di monete nazionali o in una forte del nord e una debole del sud, come pensa qualcuno, lo è enormemente di più, con l'ovvio rischio, direi la certezza, di fuga dalle valute deboli verso quelle più forti. In secondo luogo, l'obbligo per ciascun Paese di dover far fronte ai propri impegni debitori in euro o in altra valuta forte e non certo con una lira fortemente svalutata. Difficile stimare a quale livello schizzerebbe il rapporto debito-pil. Tassi di interesse in crescita, pagamento delle materie prime in valute svalutate e inflazione conseguenze completerebbero la demolizione dell'economia nazionale più esposta. Mi si obietta che le esportazioni volerebbero, ritornando a una vecchia lira. La mia controvezione è duplice. In primo luogo, le nostre esportazioni volano lo stesso. In questo territorio voi siete i campioni e sapete bene quello che sta succedendo, ma sulle ali soprattutto della capacità delle imprese italiane. In molti settori i nostri risultati sono largamente migliori di quelli tedeschi. In secondo luogo, proprio la droga della svalutazione per competere è stata la base dei mali profondi dell'economia italiana e della capacità di conquistare mercati con le proprie qualità di prodotto. Perché buttare al vento un lento percorso di miglioramento competitivo fatto dalle nostre imprese in questi anni. Abbiamo però un motivo più profondo per respingere lo scetticismo antieuropeo. La disgregazione di un grande disegno comune per uno frammentato in tanti stuzzerelli consegnerebbe quest'area del pianeta alla sua definitiva marginalità politica ed economica. Fatto che a qualcuno certo non dispiacerebbe. Padroni in casa propria ma solo di governare debiti, instabilità e marginalità. Chi pagherebbe questo conto? Noi tutti, più deboli in particolari, con gravi rischi per la tenuta sociale e la democrazia stessa, faticosamente conquistata nel Novecento dalle due guerre mondiali. La politica consiste in un lento e tenace superamento delle dure difficoltà, da compiersi con passione e discernimento, scriveva Max Weber. La mia idea di Europa tiene insieme passione e ragione. La razionalità dice di tenere la barra del rigore, ma di regolarla con una sana dose di pragmatismo in più, sapendo che per i Paesi fortemente indebitati la debole crescita interna, congiunta a rigidità di bilancio eccessive, provocano effetti depressivi se non deflattivi come in Italia. Abbiamo fatto notevoli progressi con nuovi strumenti comuni per affrontare le emergenze finanziarie. Oggi abbiamo di fronte l'ardo impegno di costruire un ambiente favorevole al lavoro e all'impresa, fondato su nuovi principi di semplicità, di innovazione e di competizione. Tale condizioni favorevoli si determinano con una maggiore libertà di impresa e di creazione di valore, con una riduzione dell'occupazione degli spazi della società e dell'economia da parte dei governi e della politica. In Italia avremo tutti da guadagnare da una maggiore iniziativa privata e da una minore dipendenza dallo Stato. Le istituzioni intorno a cui abbiamo costruito la moderna idea di Stato e di convivenza sono state un obiettivo successo del nostro continente. Queste sono entrate in crisi quando hanno invaso campi non propri, hanno alimentato a debito i consumi e non l'economia reale con l'innovazione continua. Hanno costruito regole sempre più complesse per difendere il proprio ruolo. L'Europa unita sarà tale se costruirà progressivamente un sistema interno favorevole al lavoro, all'impresa e all'innovazione, semplificando, allineando le legislazioni fiscali e del lavoro dei singoli Stati, lasciando più spazio alla libera iniziativa, pontando sui valori innovativi dell'economia reale in cui eccelliamo. Ciò che voglio dire è che siamo usi a spiegare le differenze di ricchezza tra una zona e l'altra del globo con la produttività, il clima, la demografia, l'accesso a risorse energetiche e naturali, l'istruzione della popolazione, la disponibilità tecnologica. Molti atti di programmazione europea sono basati su queste tesi. Grande attenzione si è fatta alla regolamentazione minuta di questi processi, a mio parere in modo eccessivo. Oggi una moderna economia sociale di mercato deve porsi il problema dell'eccesso di regole che bloccano la creazione di nuove attività, ne soffocano il potenziale e la capacità creativa. Ma la ragione va unita alla passione europea. Affidare i nostri destini alle sole istituzioni come soluzioni di tutti i mali è un errore fatale nella società moderna, processo che in Italia ha già prodotto guasti rilevanti. Il ruolo di ciascuno di noi, il contributo che individui singoli, riuniti nelle diverse forme di società civile, è essenziale al rilancio del progetto dell'Unione. Siamo noi tutti a dover dare una scossa morale di impegno nei nostri specifici ambiti, nelle nostre comunità e paesi, perché non prevalga lo scetticismo che conduce a un inevitabile declino. Tocqueville ricorda in modo esemplare lo svuotamento progressivo delle società civili e i rischi che corren la democrazia. I sentimenti e le idee si rinnovano, il cuore si ingrandisce, lo spirito umano si sviluppa solo grazie all'azione reciproca degli uomini, gli uni con gli altri, nota in democrazia in America. L'associazione che ho l'onore di presiedere ha l'Europa nello Statuto. Vorrei ricordare che nella riforma abbiamo inserito una duplice sede, formalizzato il fatto che Confindustria ha una duplice sede a Roma e a Bruxelles. Confindustria è un'associazione libera che promuove nella società e tra gli imprenditori i valori di una società libera in sviluppo. Lo fa in concorso con le istituzioni del proprio Paese e con quelle dell'Europa. L'Unione diventerà uno spazio amichevole per i cittadini, favorevole alle imprese e al lavoro, se alle giuste richieste che rivolgiamo alla politica si unirà l'impegno di tutti a partecipare a un processo vivo di passione e di ragione. All'Europa unita servono la politica e i suoi cittadini. Noi di Confindustria, ve lo assicuro, ci saremo. E personalmente, io da europeista convinto quale sono, vorrei ribadire che il mio sogno è quello di vedere gli Stati Uniti d'Europa, che purtroppo non si potrà realizzare in tempi rapidissimi, ci vorrà qualche generazione, deve rimanere un po' il faro che deve guidare tutti noi e soprattutto noi ce la possiamo fare, ci dobbiamo impegnare tutti e la politica, dobbiamo crederci di più, dobbiamo dare una spinta politica in questa direzione, perché gli Stati Uniti d'Europa sono l'unica salvezza per le generazioni che ci seguono, per i nostri figli e i nostri nipoti. Io ne sono fermamente convinto. Grazie a tutti.